Eccoci qui e bentornati con una nuovissima reaction ai miei vecchi video insieme a Kendall Sapete quanto mi facciano soffrire questo tipo di contenuti ma vi piacciono tantissimo e quindi ho già selezionato dei video che vale assolutamente la pena di rivedere O per i nuovi iscritti vi faccio scoprire un mondo, un mondo segreto, ricco di cringe Come vedete ci sono parecchi video da recuperare ma io ovviamente ho selezionato i migliori, solo per voi Questo ad esempio è il primissimo video del mio canale in cui appare Kendall Ok se c'è una cosa che mi cringe tantissimo è la mia vecchia intro quindi per favore schippiamola Andiamo avanti Ciao a tutti E quindi adesso che l'ho un po' sistemato e che abbiamo fatto a casa sua ma questo lui ancora non lo sa O forse sì o forse no, chi lo sa E quindi oggi qua su Minecraft faremo fare la reazione al nostro mondo a Kendall Che adesso è di là, nell'altra stanza Perché è un ASMR sto video? Perché? Perché ogni mio vecchio video è un ASMR? Sembriamo come un po' a c'è posta per te che adesso si aprono le porte Ho anche fatto una piccola modifica al nostro portale del network Carly ti prego inizia, ti prego inizia, ti prego inizia Oh grazie a Dio abbiamo iniziato Io non ce la posso fare ho bisogno di accorciare i tempi Chiudi gli occhi Ok adesso puoi aprirli Ti ho messo la mano sulla fronte e chiudi gli occhi Allora aspetta No io comandi No F5 No no io te li cambio Adesso Sì perché io uso C per abbassarmi e Shift per correre Non mi giudicate dei commenti Io gioco così da una vita e così deve essere per me Mamma mia quando la mia schiena aveva ancora le linee nere È veramente bella Grazie l'ho fatta io Mi piace È veramente veramente bella Insomma Beh c'è da dire che io sono migliorata tantissimo su Minecraft Grazie alla mia vecchia vanilla Che mi ha fatto diventare una builder professionale Professional E quindi diciamo che in realtà la prima casa non è che fosse così tanto carina Tutto sommato E ok di là nell'altra stanza dove sto allenando prima C'è la stanza dell'Enchanting Table Uh è vero Mi era totalmente dimenticata di questa stanza Oddio ragazzi a me servirebbe un ripasso approfondito della mia vecchia vanilla Ci ho costruito così tanto che vi giuro Quelle poche volte all'anno che rientro dentro Mi scordo sempre di tutte le cose che abbiamo fatto Ma c'è è una serie che è data avanti per tantissimo E sicuramente continuerà anche nel futuro Geniale Geniale 700 IQ questa La mia ragazza è la più sveglia di tutti Lo so Lo so Ok Forse adesso è anche notte quindi è un po' risposta Scusate Io Il cringio Il cringio in questi video È palpabile Proprio Lo finirò e poi non lo finisco mai Posso dire Tuttora non è stato finito questo magazzino Bellissimo il tetto Che c'è? No no L'ho fatto tondo No Faccio una c***a il tetto Mi prego se è brusso obrero questo tetto Allora io non sono mai stata brava a fare i tetti Quante volte ho detto tetto in questa frase Non sono mai stata brava Però Però c'è da dire che c'è stato un netto miglioramento Rispetto a prima Posso dire Credo che Si vede Anche proprio le costruzioni in realtà Ma che è sta roba Queste fidestre Terrificante Ma andiamo ai punti salienti del video È il punto più guardato del video Aspetta c'è anche questo Andiamo sempre a prendere i diamanti È vero Ho fatto la sua casa sull'albero Mamma mia quante raspoglie ai tempi la mia vanilla Quanto è un 9 su 10 Cioè è bello colorato Non è un 10 su 10 Amore 10 su 10 è la perfezione Non si può avere Adesso è un 10 su 10 il mio mondo È un 10 su 10 Però veramente Pensandoci adesso questa casa sull'albero È decisamente più bella Della mia farm di ferro Nella cimbiacraft Uh questo non lo guardo da tanto Facciamo i biscotti di minecraft Però questo tutto sommato è anche abbastanza recente Guardate Se riesco a prendere Guardate qua che belle formine Avevo dimenticato di avere questa decorazione Oh Ce le ho tuttora tutte queste formine nel mio cassetto Le usate solo con la volta e beh più Se mi chiedete dove trovarle sono su Amazon Inizieremo a fare la ricetta dei biscotti Con Un attimo che controllo Sei bravo in matematica a fare i conti a metà Ci penso io Io avevo 6 in matematica Allora 6 Io avevo 4 in matematica Abbiamo mezzo chilo di farina Mezzo chilo sono 2,50 Bravo 2,50 di farina Giudicato Oggi useremo la farina 00 barilla Allora Non va neppure bene quella per i dolci Non ero sponsor Dobbiamo fare due La scodella in legno No è pulita Sembrava sporca Dobbiamo prima montare 3 uova 3 uova Però dobbiamo fare sempre I due cervelli In quel momento Dobbiamo prima montare La metà Quindi un uova e mezzo Quindi mettiamo due uova Così siamo molto generosi Due uova di gallina e non di dinosauro Prendiamo le nostre bellissime Aiuto Sì l'imposto vi verrà molto duro Però non vi preoccupate No 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 Non vi preoccupate Sono venuti ai biscotti di pietra Buoni però Dopo circa un mese dal mio debutto su youtube Ho deciso di portare il grandissimo imperatore Su fortnite E voi sapete come me la cavavo molto bene un tempo Quante volte ho detto fortnite in questa frase Basta schippiamo la intro vi prego Belli tipi qui Esisteva solo la modalità costruzioni Bianco verde Blu Viola Epico giusto? Da notare come Kendall ogni volta su fortnite Non sappia mai niente Ha bisogno sempre del ripasso Bianco verde Blu Carli blu Vedete che io non so rispondere alle persone Mentre sto giocando a fortnite Non ce la posso fare più forte di me Bello comunque 5 minuti di video Non c'è neanche una kill Io sicuramente sto guidare meglio Cos'è quell'occhio? Sembra quello del signor degli anelli Sempre puntualmente nelle referenze al signore degli anelli Dai Carli facci vedere la prima kill Coraggio Morto Seccato Bravissimo Mi sono presa tutto il verito e dannogli un colpo Centrato in pieno Mamma mia che mira Carli Vantate È bellissima la mia mira qua Vai Carli Vai Carli Spara Dai Carli Carli Coraggio Coraggio ce la fai Mira Mira Sì 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 Mamma mia Mamma mia Aspetta aspetta non lo uccidere Non posso guardare ragazzi Scusate io non posso guardare Ah È come se Vi giuro stesse giocando Un sedano al posto mio Cioè Mamma mia I momenti più visti del video Andiamo Comunque morei io ti consiglio La prima parte di toglierla Cioè metti solo sta Video Mi sono davvero dimenticata Di tagliare la parte In cui Kendall Mi dice Comunque amore Dovresti tagliare questa parte Faccio di così Non poteva andare Sì 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 Aspetta aspetta C'è un jump pad Un jump pad Ok ho visto abbastanza Ho visto abbastanza Ed è pure un video Super visto quello Quindi tanta gente Ha visto questo mio Grande errore Che non ho tagliato Oggi facciamo Il sushi in casa Ciao a tutti ragazzi Io sono Carli E che cambia E benvenuti In questo nuovissimo video Oggi faremo Il sushi Non ce la posso fare io Con questa intro Basta Basta E sarò in compagnia Di un ospite speciale Ciao Andremo a spiegare Passo passo Come si fa Piccola informazione Di servizio In questo video Bello questa ferma immagine Per favore Zommatevi sulla faccia Mentre parlo adesso In questo video Stavo malissimo Malissimo Avevo più di 39 Di febbre Infatti a fine video Si vede io che sono bianca In realtà come un lenzuolo Perché sto male E avevo il famosissimo Virus Che non posso nominare E stavo male Stavo male Però ho cercato Di racimolare Tutte le mie forze Non sapevo ancora Di essere infettato Ho cercato di racimolare Tutte le mie forze Per fare questo video E non ho neppure Mangiato il sushi Perché non me la sentivo E dopodiché Se è maturo abbastanza Verrà fuori da solo Facendo un bel giro In questo modo In questo caso Come mai questo avocado È fluo Sembra un dividenziatore Oh buono Mi è venuta voglia di sushi Adesso Adesso che siamo andati a tagliare Tutto quanto Siamo pronti Per iniziare a fare i roll Abbiamo bisogno Di questa Sorta di tovaglietta Ah Io ce l'ho Scusate Io vedo sempre Stato tovaglietta Dentro Il cassetto In cucina E dico Ma a che serve Sto robo Pensavo fosse veramente Tipo un poggiabicchieri Mi ero totalmente Dimenticata Che l'avessi presa Per fare questo video E Gimbab Gim Gimbab Gim Famosissima Gimbab Gim Ma siamo sicuri Che venga bene Sta roba Come cacchio l'ho fatta Ci ho andato un po' ad occhio Ok ok È il momento clou Andare a mettere Questa parte di roll Fallo fallo Carli fallo fallo E che disastro Che disastro Ed ecco fatto No ragazzi Ecco fatto Sembra un enorme spiedito Beh Beh Dai Sembra tutto Tra te che è un rotolo di sushi Ti giuro È venuto bene Con mezzo avocado che esce Di cuore È venuto bene Staccadina Mi piace Ah ma piace Dopodiché avete fatto questo tronco Bagnate Il coltello In questo modo Vediamo proprio un tronco Scusate ma il risultato finale Come è venuto Buonissimo Ragazzi Buonissimo Buon appetito Beh dai Sono tutti carini Io spero che questo video Vi sia piaciuto Tant'è che Scusate Mi ha appena venuto in mente Questa cosa Che Quando Abbiamo fatto questo video Del sushi Ale mi disse Per la miniatura Se non vede bene Il sushi Lo ordiniamo E lo mettiamo Nella thumbnail Uomo di poca fiducia Guarda invece Quanto è venuto Bello Sì Presentabile No è colpa nostra Perché l'idea È stata notte Cosa volevo dire Ho parlato la lingua degli idee Per un attio Noi abbiamo scelto il riso Haruka Haruka Vabbè ma allora Vabbè stavo malissimo Cioè non capivo nulla Stavo male Ma prima l'abbiamo fatto No ma io mi sono dimenticata Che avevo Avevo l'estate da bere Non l'ho bevuto ancora Allora reagiamo all'ultimo video Mentre bevo l'estate al limone Vado a periodi A volte pesca A volte limone Non mi giudicavo E ovviamente pensavo Che non potesse mancare Un sono morta parte 3 Perché io ho fatto il record Nella mia vanilla Di molteplici morti Sono curiosa di sapere Di cosa sono morta Qua su Minecraft Ma prima di arrivare Immagina al momento Più visto del video Guardiamoci un po' Che cosa accade Uh è carino È vero È il mio villaggio di villager Dipende dal primo villico Che mi capita Che carino Però è tutto È tutto vuoto ancora Oh Però qualcosa davanti E quello diventerà il suo lavoro E questa invece È l'ultima casetta Che è quella un po' Più colorata E l'ho fatta In modo diverso Rispetto agli altri Ho usato la lana E posso dire Che brutta che è È proprio brutta Sta casa Tette rame Senza offesa La carne del passato Che è sta roba Molto semplice Molto piccola È molto brutta Perché abbiamo appunto Ho come l'impressione Che moriremo nel nether Così Oh calma 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 Morirò per un ragno Nel nether No? Stiamo calma Oddio no è vero Non ho del nether Non ho preso l'oro Non ho preso l'oro Mi chiedo scusa Mi chiedo scusa Secondo me Muoio cadendo giù Da qualche parte È vero Che nabba Che nabba Scusate Ok Fammi rivedere Ho fatto una morte Molto simile Nella cimia craft Carli del passato Quanto ti capisco Beh ragazzi È stato un lungo viaggio Ricco di emozioni Questo è stato un modo Per far conoscere Anche i nuovi iscritti Chi era la Carlottina Del passato Vi ho fatto conoscere Questo lato oscuro di me Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Da Carli Da Cimia Ah ecco ti Cimia È tutto Noi ci vediamo prossimamente Con un altro video Ciao Ciao